Il 6 agosto al Ciro Wine Festival of 2023, amanti del teatro e del vino hanno avuto l'opportunità di immergersi in una fiaba contemporanea dal fascino cristiano e popolare, intitolata Cristo di periferia, scritta da Davide Sacco e interpretata dall'apprezzato Francesco Montagnari. Scenario di questo spettacolo è i tralicci dei vitigni secolari della tenuta senatore nelle terre delle Cirodoc. La performance di Sacco e Montanari ha regalato un'esperienza emozionante e coinvolgente, avvolgendo gli spettatori in una narrazione che è sembrato di far ritornare un nuovo Cristo miracoloso tra noi comuni mortali, una storia contemporanea e poetica che parla di fede e umanità. L'atmosfera magica della serata è stata ulteriormente esaltata dai prodotti gastronomici locali proposti dal laboratorio di trasformazione gastronomica Lucchetta di Ciro Marina, che hanno accompagnato sapientemente il vino torchiato in cantina. Il Ciro Wine Festival celebra il legame indissolubile tra il vino e questa affascinante regione calabrese, dove la tradizione vitivinicola ha generato un prodotto eccellente, apprezzato a livello mondiale.